Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti al nostro unboxing dell'HTC Desire 816G Uno smartphone dual sim commercializzato su Amazon ad un prezzo che si aggira attorno ai 200€ In questo video vedremo rapidamente l'unboxing con il contenuto della confezione originale Mentre successivamente invece vedremo da vicino questo bel dispositivo Allora, confezione standard di tutti gli HTC Desire, vedete sulla parte anteriore il disegno del terminale con i vari colori a disposizione Blu, nero e bianco Indicazione del terminale dual sim 816G, questo è naturalmente il modello, quindi un nuovo dispositivo della serie Desire Uno dei tanti perché devo dire che sul mercato ce ne sono davvero moltissimi Sulla parte posteriore invece troviamo alcune caratteristiche tecniche, vediamole rapidamente Piattaforma naturalmente Android con BlinkFeed e molte applicazioni HTC Processore octa-core da 1.7GHz, dual sim, in particolare vedete due nano sim, quindi proprio le più piccole sul mercato Memoria interna da 8GB, 1GB di RAM, possibilità di espandola fino a 32GB, display da 5.5 pollici HD a 720p Fotocamera posteriore da 13MP e anteriore da 5, quindi sicuramente buona dotazione Vediamo il contenuto della confezione, si apre ed al solito troviamo immediatamente il terminale Il terminale che a prima vista appare sicuramente con uno schermo molto ampio, vedete che le cornici sono, vi faccio vedere anche già il display Sono molto ridotte ed il display è veramente molto ampio, quindi 5.5 pollici ma molto carino perché comunque sembra davvero di avere tra le mani un dispositivo quasi tutto schermo Sulla parte anteriore non troviamo tasti fisici, troviamo l'altoparlante per la riproduzione musicale, l'altoparlante per le chiamate e la fotocamera anteriore Posteriormente invece abbiamo una cover in policarmonato, cover che devo dire molto carina, non può essere rimossa, quindi la batteria non è rimovibile Troviamo marchio al centro HTC con fotogamera posteriore e flash led singolo La cover è come ho detto in policarmonato, che sembra quasi gomma, molto carina sia al tatto sia alla vista Il nostro modello vedete è in colorazione, anche se forse dal video non si vede troppo, è comunque in colorazione blu Blu che si trova sia sulla parte anteriore che sulla parte posteriore del terminale Gli unici tasti fisici li troviamo sui lati, accensione, spegnimento e volume Superiormente jack con microfono per la riduzione del rumore Inferiormente micro USB E da questa parte invece abbiamo lo slot per inserire micro SD per ampliare la memoria interna O comunque le due nano SIM Proseguiamo nell'unboxing All'interno della confezione troviamo inoltre carica batteria da parete con presa USB Poi micro USB to USB per la ricarica o il collegamento al computer E infine le classiche cuffiette con microfono interrato per ascoltare la musica in mobilità Qui abbiamo una grande manualistica che ci spiega passo per passo come inserire le SIM Come utilizzare il dispositivo e quant'altro Bene, mi sembra di aver visto praticamente tutto di questo bell'HTC Desire 816G Ora non ci resta che provarlo e offrirvi le nostre impressioni in una futura recensione Grazie a tutti